ciao amici ciao amiche iea ben ritrovati su cani coppia davide chiara channel bene questa sera mukbang con coscia di pollo e pure buon appetito a tutti ragazzi e ragazze eppure è sempre pure ragazzi 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 c'ho fame c'ho fame c'ho fame ma volete sapere una cosa ho combinato stanotte stanotte per modo di dire erano le tre e mezza mi sono svegliato dicevo una fame non ho mangiato nulla sapete cosa ho fatto allora mi sono fatto un caffè avevo veramente una fame allucinante ho detto provo a farmi un caffè mi sono fumato una sera sono tornato a letto mi sono addormentato perché io fino a cos'è due settimane fa fino a una settimana fa io quando a qualsiasi ora della notte dopo anche cena mi veniva fame prendevo mi alzavo e mangiavo quello che trovavo mangiavo poi mi sono messo poi ho deciso di non mangiare più di notte per dimagrire infatti i risultati li sto vedendo e poi devo dire che mi sveglio anche senza essere pesante e tutte queste cose qua che poi non sono neanche perché sto mangiando il pollo con le posate che il pollo si sa che va mangiato con le mani infatti adesso non mangio con le mani perché trovo un po di difficoltation vedete questo qua è un piatto che non ha bisogno di essere accompagnato col pane ci stai ragazzi non vi dico l'ora che non vedo l'ora del 31 ultima firma finalmente poi partenza però forse appunto lo stavo dicendo forse è rimandata l'1 e poi se è rimandata l'1 poi capirete perché desidero fare un mukbang con la pepata di cozze voi ragazzi cosa avete fatto oggi come avete passato la giornata parte più buona del pollo pensate che queste cosce le abbiamo prese all'iperdiarese e devo dire che sono buone stasera ho una fame da lupi sì ma è buonissimo sto pollo è anche stato cucinato benissimo non è bruciato bello morbido è buonissimo ecco il pollo praticamente finito di vino al pollo qua come potete vedere ci sono le ossa e qua rimane solo pure ogni tanto capita che faccio un mukbang e ho talmente fame che non riesco a parlare scusate sì 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 uh sto scoppiando ragazzi secondo me pure più buono è quello che ho fatto in casa molto molto bello molto bello molto bello c'è il sole è una bella giornata ma c'è il vento che rompe le scatole bene anche il purè è praticamente terminato bene ragazzi io ho finito di cenare spero di avervi fatto compagnia nel cenare con voi o nel pranzare in base a quando vedete questo video vi ringrazio moltissimo io come sempre ringrazio gli iscritti di sempre nuovi iscritti mi raccomando iscrivetevi sempre di più al canale di coppia davide chiara channel al canale chiara d'alessandro e al canale chiara d'alessandro asmr io vi auguro una buona serata vi mando un grosso bacione il solito yeah e ciao